Buongiorno a tutti, ci troviamo in questo splendido teatro, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Siamo al lavoro su una nuova produzione del Don Pasquale di Donizetti. Stiamo lavorando con un cast di belcantisti bravissimi, una regia molto divertente. Stiamo lavorando sulla partitura integrale del Don Pasquale, quindi restituiremo tutto quello che ha scritto Donizetti per questo meraviglioso capolavoro. Personalmente sono felicissimo di lavorare con questa meravigliosa orchestra, gli artisti del coro veramente superlativi, il cast, i maestri collaboratori, i maestri di palcoscenico, una grande famiglia per offrirvi il meglio in questa opera. Quindi aspetto tutti voi qui al Maggio Musicale per il Don Pasquale di Donizetti. A presto!